Buongiorno ragazzini! Perché urli? Buongiorno? Niente, allora vi spiego dove stiamo andando, no? Stamani. Siamo nella macchina del Papi, come vedete. O praticamente ragazzini stiamo andando a Crispiano, che è un paesino, come c'è di Taranto, da un ragazzo. Da un ragazzo che fa cosa? Tatuaggi. Tatuaggi. Perché sto pensando di farne uno o più, però al momento ne farò uno. Come ogni cosa, siccome essendo un tatuaggio che viene fatto sulla pelle, voglio andare bello piano piano, vedere che tipo è, se è pulito, se non è pulito, decidere insieme a lui, consigliarmi, farmi consigliare, vabbè. E niente, questa cosa ce lo volevo fare già nel 2007. Però, però comunque è giusto una cosa da vedere, poi si pensa, no? Giusto. Forse se lo fa anche Lucia il tatuaggio. Oh, Lucia. Un tribale, un tribale tutta la schiena del French, che ne viene tutta la schiena fino a scendere le sedere. Sì. No? Io che non c'ho neanche una bella schiena. Eh. Ma lo so che non c'ho una bella schiena. La schiena? Schiena. Beh, vabbè ragazzi, dai, non andiamo che è tardi. Ciao. 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 Te lo fio. Ragazzini. Allora, praticamente, abbiamo parlato con questa persona. Perché fai le lunghe pause? Ah, stavo parlando. Ah. Che mi deve fare il tatuaggio. E niente. Abbiamo parlato, abbiamo... Siamo fatti un po' di pensieri, no? Come... Come potrebbe e cosa fare. Ovviamente non è facile, né? Cioè, non è che su due piedi uno decide. Eh, però... Non vi dico cosa mi devo fare. Non ve lo dico. Quello si vede. Eh? Quello si vedrà. Quello si vedrà. Però... Però... Sono pronto a farmi un tatuaggio. Perché... Boh... Sono anni, dal 2007, che... Ho intenzione di farlo. Ho intenzione di farlo. Qua stiamo... Qua stiamo... Nel mare... Nel mare tropicale... Quanta bella gioventù... L'acqua... Andiamo piano piano... Se non ci bagna... Beh... Quindi? Eh niente. Quindi cosa? Ora andiamo a lasciare la macchina. Eh... Andiamo a prenderci la nostra piccoletta. Topolina. La nostra topolina. Oh 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 oh. E stasera si va al cinema. Sì, hanno fatto un film su Taranto. E andremo a vedere. E stasera le 10 ce l'andiamo a vedere. Oh gratis. Abbiamo avuto dei biglietti regalati. Grazie. Eh... E quindi... Ma non vale che non li abbiamo comprati. Eh? Ma non vale che non li abbiamo comprati giù da Federico. Ma to... Poi glielo dico, dico Federico. Oggi devo andare al cinema stasera. Io sì. Ah eh no, li abbiamo avuti gratis i biglietti. A proposito, sbrighiamoci che quella luna chiude. Chi è? È Tommaso, mi andiamo a prendere i biglietti. Ah ah. Beh, a dopo. Ah. Ehi ragazzini. Sta a posto? E là. Guardate che cosa ha preparato. Buongiorno a tutti. Fettine. Impanate. Sfumate col vino bianco. Come? Sfumate. Sfumate. Ah. Sfo, sfo. Sfo, sfo. Sfo, sfo. Poi ci sono un po' di travezzi. E poi la rimanenza dei sabanelli. Non è rimasto così niente. La prima dei malcini, ma ragazzi. A vedere. La corona spezzata. La corona spezzata. Un film che hanno giustato a Taranto e nei vari paesi, se non sbaglio. Sfumate. Dunque, mancava giusto a fredda. A dopo ragazzi. Buon appetito. E siamo qui. Ragazzi, stiamo andando al cinema a vedere, che ho detto il film, no? Qual è che si trova? Eh? Guarda, non andare. Sfumate. E' arrivato in venerdì. Beh. Speriamo che non sia una caccata di film. Davvero? Di là. Ma ancora c'è da camminare? Eh, un marciapiede. Un isolato. Ah, qual la, poi non l'avresti trovato perché? Mi sa che troveremo un sacco di posti però. No. Perché all'ultimo orario non credo che vede. Ah, non è bene. Mielo qualcuno. Ci sono fatti parecchie pubblicità. Eh? Ci sono fatti parecchie pubblicità perché a parecchi negozi ho visto la Lucadonna. Vabbè, sì. Quindi. Beh, ho vedi Taranto. Eh. Per questo uno, un po' come noi, non sappiamo, io non ho visto proprio il trailer del film. Eh. Però lo sto vedendo per vedere come l'hanno girato a Taranto. Cosa hanno preso di Taranto. a aquella, la, 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 guarda qua. Vabbè? Semplicemente per quello. E poi perché magari ci può essere qualche amico conoscente. Vabbò, ragazzi, a dopo, a dopo. Ciao. Ciao. Ed eccoci qua al cinema stiamo. Ed eccoci qua al cinema a vedere il... Grande lumiere. Il film. Il grande centuries. Il film che si è girato a Taranto. Ad esempio. E stiamo qui a ciuttosto. E' un'epica. Il melleno e cent'afora si è Fondano il chimio. Il melleno e cent'afora. Edito, con questa macchina. E' vera, adesso ve bollette. C'è vero? Va bene dai, se mi farei che ci scrivo. Ciao I miei chini Io ho già mangiato la mia reazione di torta Sono praticamente l'uno e venti No, vediamo più di la Brava Ora che c'è con l'orologio È Giacobbo E niente ragazzi, siamo venuti a vedere il film che hanno girato a Taranto Che hanno girato a Taranto Vi dico solo una cosa Meno male che il biglietto era gratis Ma non voglio Non era un film proprio dei migliori Hm? Non era proprio un film dei migliori Potevamo fare meglio Dico come, potevamo come Tarantini No, alla fine Non lo devi lanciare a Taranto Come strana Vi dico solamente una cosa In questo film C'era Una donna Che all'epoca E' stata violentata Indovinate da chi? E' 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 per forza Da 30 lance Menchia E' 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 Una vecchia Una vecchia Aveva gli occhi sorti Così Dai E' E' Si stava lamentando che era stata violentata Mi sapeva che ti è piaciuta la vecchia Non era vecchia quando l'ha violentata Vabbè 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 Può anche piacere Però Fatto in modo diverso E' Ma presa così di violenza Vero? Dico io che cazzo Da 30 lance pure Prezzo di violenza Da 30 lance Non so se mi spiego Calma calma Che cazzo Ma tu che ne sai tu? Tu che ne sai? Calmi calmi Ma tu che ne sai di 30 lance? Eh Nominato Ah? Nominato come un Rocco Ah e poi dovrei rispondere a una persona io no? Eh eh A Danielino Danieli io lo so che con Queste mani mi posso dire Però Non ne sei capace nei miei confronti Non ne sei capace No 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 Non ne sei capace Non ne sei capace Se io chiamo il Sensi In causa E' perchè è l'unica persona che può dare veramente un giudizio Sano Stai offendendo gli altri che ti commentano No 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 Perchè sembra che gli altri non ti sanno dire un giudizio Nooo Ci sono di parte Te invece Sono di parte Il Sensi Mizzica E' una persona neutra Ma c'è senti Che dice le cose come stanno Che lui è il primo che ti parte Mi difende anche se tu fai la cavolata Mizzica Perchè Daniele Sensi che fa? E' una persona E' una persona Sì sì Perchè va con te Io do un giudizio Sì sì Proprio Mh Come no Che ha scritto anche nei commenti Guarda guarda stai sentendo Ha scritto anche nei commenti Peccato che non ti posso difendere Però Sono capace anche di andare E' il giornalista che mi ha antipatico Che comunque per me non è bravo Pur di difendere a te Andare contro Lucia Lo sappiamo che Sensi ha la Cassi Interrite Non me ne frega niente E allora Tra il nervosismo e la Cassi Interrite che? No no Lui è contro di me Lui è contro di me sempre E non dire che non è di parte Che cosa è che si sente Saverio Lui è chissà cosa Anche lui canta l'Igno d'Italia Lì? L'Igno d'Italia Perciò è un cittadino italiano Onesto Dove E allora se permetti a me C'è Danielino che mi difende C'è Nicola che mi difende C'è Nicola che mi difende C'è Rosa Gangla che mi difende C'è Caterina che mi difende C'è Michelangelo che mi difende A te uno e basta Per Danielino tu potresti avere anche i piedi sporchi Per lui i piedi sono puliti Quello che Daniele Sensi lo è per te Mi dispiace Danielino dirti queste cose però Daniele Sensi è sincero e puro nell'anima Sì 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 Daniele Sensi lo dà un giudizio lo dà con una magistratura Sì solo nei tuoi riguardi Senza dare Senza essere di parte di nessuno Lui è come si dice come È come una bilancia Sì sì che pende solo da una parte Non pende Lui dà il giusto peso No ha tolto proprio il piattino dall'altra parte Che se non puoi mettere neanche qualcosa altro Per raggiungere Lui dà il giusto peso Sì 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 Che pende solo da una parte E l'altro piattino l'ha tolto Che non c'è neanche possibilità di mettere qualcos'altro Per bilanciare No Vabbè comunque Sì 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 ne sono pienamente convinta E voi altri se siete convinti Questo è così nei commenti dietro Anche tu Vincenzo Raspaolo eh Eh Vincenzo Raspaolo? Eh? Mildia Tuadi Allora voglio leggere Un commento Da parte anche di Vincenzo Raspaolo Un commento del senso Saverio Hai ragione Lucia e Torto Oppure che so Lui è convinto di avere ragione Quindi vuole sapere però se ho ragione io In tanti discorsi Dite la vostra E poi vediamo Chi è la bilancia Che è sbilanciata Domani Ci sarà Una sfida forse Guardate un minuto Ci sarà una sfida Una piccola sfida Chi riuscirà a tenere gli occhi aperti Avendo sotto al naso una cipolla Che c'è la sua sfida? Così Uno deve stare con gli occhi aperti Con la cipolla così sotto al naso Così Ho detto Vedi che ci stanno aspettando ancora la sfida con il procedimento Andiamo a cercare La faremo Non mi ricordo Rosso Non mi ricordo Rossi, Rosso Ragazzi prima o dopo Buonasera Che ti aveva detto prima Che ti aveva detto prima? Non si apre bene Com'è che si apre bene? Beh Che ti aveva detto prima? Le due sono No sono le due Ma sapevo che a quest'ora dovevamo andare a dormire Fino che finivamo Fino a che finivamo di mangiare la torta Metterci il pigiamino Ma questa dice Beh ragazzini noi siamo a Ninna Eh Lo so Lo so E niente E niente allora sto pensando seriamente Oh sto qua Ti vedo Di farmi questo tatuaggio Non so dove Forse qua Ehm Sul petto Sul mio Possente 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 Infatti Il possente Che con due colpi Te ne avevi a terra Ehm Madonna Quanto si lungo Possente petto Non vi dirò cosa mi farò Ehm 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 Detto questo Vabbè tu Che vai a fare una ripresa Proprio Scarsa proprio no? Che scarsa vedi che ti stai inquadrando Lascia un secondo il telefono Ehm Stai impazzendo col telefono No non sto impazzendo io C'è Che io mo il tempo di finire la cosa io chiudo Non è che sto come a te a vedere i video Come? Non so come a te ancora sveglio a vedere i video Ma stai zitta stai E parlo un po' del film che hai visto parlo L'ho detto No parlo Ci poteva essere qualcosa di meglio Parlo un po' di più Ci poteva essere qualcosa di meglio C'è La trama c'era Ehm A volte era un po' ingarbugliata Però Dai Ci poteva stare Non so se gli attori erano Che non erano molto validi O era tutta la La parte tecnica del film che non era valida Però Dai Incoraggiamo quelli di Taranto Già che hanno fatto film Che poi non ho capito Con l'attore iniziale Quello che sta all'angolo Quello con i baffi Con i capelli lunghi Che era il picciotto Beh All'inizio del primo non era morto Si Poi quando fanno vedere la Il remember Cioè Esce di nuova galla Era morto Però poi quando l'hai rivisto Era un ricordo Era un ricordo Ora ho capito Abbiamo visto un po' di Di persone del vicinato Che recitavano Si Persone che vediamo quasi ogni giorno Si Vabbè Che ci salutano Che ci salutano Vabbè No vabbè Quello con i capelli lunghi è Vi saluta Si però Oh c'è una gnocca nel naso Vabbè Non ci interessa Possiamo uscire Tanto lo so che è solo una persona Interessata alle sue gnoccole anche Delle? Delle sue gnoccole E chi è? Ma sei zi Chi può essere interessato anche le tue Le tue Le tue Le tue Le tue gnoccole Solo tu Io Tu che sei Pazzarella Quando scorreggio Vabbè Dà Vabbè ragazzini dai Il video 10 termina qui Domani faremo questa sfida con la cipolla E chissà Potremmo fare anche la sfida Con il dolce di ferro Chissà Chissà Vediamo come va la giornata Vediamo un po' Vabbò ragazzini il video 10 termina qui Iscrivetevi Commentate Fate iscrivere altra gente Dite Sulla nostra pagina facebook C'è il tasto Iscriviti Andate e cliccateci Guardate Il tasto mi piace Mettete anche il video 10 La pagina E niente il video 10 termina qui ragazzi Buonanotte Grazie 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 Grazie